Niente mi vado a tagliare i capelli e che vado a dire addio a questi e ciao a dopo Ciao saluta Bene raga Ciao Ciao raga mi sono tipo Non registro adesso il video perché ieri non avevo tempo, ieri sera e non avevo tempo neanche stamattina quindi ciao Allora prima stavo registrando con instagram perché volevo i filtri belli Adesso sto registrando senza occhiali e non vedrò nulla Perché no me li metto dai Cioè mi sono tolto gli occhiali perché dovevo provare i filtri in instagram Se no con gli occhiali non vanno Vabbè bando alle ciancio, ciancio alle bande Questi sono i capelli nuovi Li ho tagliati così perché volevo provare qualcosa di nuovo Cioè ho tenuto cinque anni capelli lunghi Poi nel 2020 tipo a giugno li ho tagliati ma non mi bastava più tipo solo la frangetta Quindi avevo deciso l'altra volta di farli in quel modo che avete visto Poi vi metterò una foto di come erano tipo prima che facessi la frangia Poi lunghi con la frangia Quelli di prima e poi ovviamente ci sono anche questi che adoro troppo E niente Ve devo dire ciao al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti